Buongiorno a tutti, mi trovo a Roma, nella splendida Roma. Sono stato invitato dalla Sparti Vento per un evento che c'è qui sul Lago Un 55. Oggi faremo un carpaccio di gamberi rossi con un'insalatina di zucchine romanesche e dello spocquerone di bufala. E a seguire un classico spaghetto con le vongole con l'aggiunta di fiori di zucca e zucchine. Sinceramente appena siamo entrati ho visto i bambini contentissimi, disinvolti. La manovrabilità è molto buona, rispondono molto bene i comandi e ovviamente le manette elettriche aiutano molto. Ha una strumentazione con la telecamera soprattutto nella parte sinistra a poppa che aiuta molto nelle manovre. Non ci aspettavamo di vedere questa barca così bella, un sogno. E poi appena siamo entrati i colori, lo spazio, il lusso anche ci ha colpito molto. La navigazione è molto stabile, il paradosso è che sembra di essere piantati sul mare ma poi in realtà sembra di volare un po' sul mare. I punti tecnici mi sembra insomma che risponda molto bene ai comandi, che sia comunque fluida la navigazione e che tiene sicuramente la velocità anche in situazioni con un po' di onda e mi sembra molto stabile. Moltissimo e soprattutto avendo due bimbi piccoli apprezzo molto il fatto di sentirmi al sicuro e di potermi godere ogni istante con la massima tranquillità. Beh la cabina armatoriale non ha nulla a che invidiare a una suite di un grand hotel quindi sicuramente il comfort, il lusso e anche gli oblò veramente molto grandi, una luce stupenda che viene da fuori dal mare. In Flybridge secondo me io ci dormirei anche quindi perché veramente si ha una visione, una comodità fantastica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.